Calendario scolastico 2022-23 Ponti 2023, migliori calcolatrici scientifiche, i promessi sposi, podcast, mappe concettuali, Date maturità 2023, tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus, temi svolti, riassunti dei libri Aliexpress Italia, abbigliamento per tutti a prezzi scontati. Il grande marketplace propone una serie di promozioni molto interessanti su tanti marchi. Inizia con la categoria Aliexpress abbigliamento donna dove trovi, vestiti e gonne pantaloni e jeans camice, felpe e maglieria sono. In offerta sia i capi della collezione primavera-estate che quelli della collezione autunno-inverno. Gli sconti fino al 70%, infatti, sono validi sull'abbigliamento di fine stagione e su quello della prossima stagione invernale. Puoi trovare cioè a prezzo scontato anche i piumini corti e lunghi, i cappotti in lana, i bomber sportivi, le giacche di jeans imbottite e parca in stile militare da indossare nei mesi scolastici freddi. Se ti interessano i giubbotti, per esempio, accedi alla categoria Aliexpress cappotti donna e dai un'occhiata alle vetrine. Le riduzioni sono alte, con i piumini proposti almeno 50%. Chiaramente le riduzioni non riguardano solo l'abbigliamento femminile, ma anche quello maschile con sconti su pantaloni, maglioni, felpe e jeans. Se non vuoi perderti tra le centinaia di prodotti, usa un Aliexpress coupon con lo sconto del 70% sull'abbigliamento. Ti basta cliccare sul voucher per accedere subito alla selezione di capi in offerta. Come approfittare delle promozioni Aliexpress sull'abbigliamento per usufruire delle offerte Aliexpress abbigliamento donna e non. Soltanto devi aprire un account con il tuo indirizzo mail. Seleziona il capo da acquistare e verifica la spedizione. Nella scheda descrittiva trovi i tempi stimati di consegna e le indicazioni sulla tracciabilità del pacco. I tempi non sono brevissimi, soprattutto se la spedizione arriva dalla Cina. Ci sono, però, anche articoli in partenza dai magazzini europei che impiegano tempi inferiori. Una volta selezionato l'articolo, letto la recensione e definito la spedizione, puoi scegliere tra i diversi metodi di pagamento accettati. Dall'e-commerce, carte dei circuiti Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express, JCB, Discover Retro e carte ricaricabili, AIP, N26 e Buddy Bank, PayPal Web Money, portafoglio elettronico non solo abbigliamento, Aliexpress conti sull'elettronica alla scuola. È sempre più digitalizzata e tutti gli studenti devono essere al passo. Per capire se sei in linea con le richieste della didattica, sia a distanza che in presenza, fai una checklist di cosa ti serve. Hai sicuramente bisogno di un computer portatile, di un tablet o di un e-reader. Oggi, grazie alle politiche attive per il Biod, bring your own device ovvero porta un tuo dispositivo. Gli insegnanti hanno la possibilità di autorizzarti a portare il tuo tablet in classe. Ti potrebbero essere utili, dunque, anche accessori come le penne digitali per scrivere e disegnare. Aliexpress ti propone vantaggiosi sconti sul tuo primo computer e sui dispositivi della categoria elettronica. Potrai così fare i tuoi acquisti senza spendere troppo. I tablet in offerta su Aliexpress usando un Aliexpress coupon hai la possibilità di comprare a prezzo ridotto una serie di prodotti. Con sconti fino al 70%. Tablet e computer portatili Tecla Stechui con sconti dal 20% fino al 50% e oltre tablet Lenovo con sconti dal 10% fino al 35% e oltre tablet e smartwatch Xiaomi con sconti dal 20% fino al 45% e oltre tablet e tablet specifici per bambini. Huawei con sconti dal 20% al 40% e oltre sono proposti a prezzi promozionali anche auricolari Xiaomi ed Edifiat, penne, supporti, cover e pellicole protettive per tablet. A seconda delle tue esigenze potrai, per esempio, scegliere tra tablet da 6, 8 o 10 pollici. Devi utilizzarlo per diverse ore di seguito. Allora, dovrai orientarti su un tablet da 10 pollici in modo da non affaticare troppo la vista. Se poi lo associ a una base, cover, con tastiera, puoi trasformarlo in un vero e proprio notebook.